ciao a tutti come state questa è la plastica che accumulo in due giorni cerca quindi mi ritrovo sempre a dover prendere un sacco e mettere in ordine così che stavo pensando di comprare un contenitore di rifiuti trovandomi con questa cassetta di plastica di frutta ho pensato che potevo riutilizzarla per costruire un contenitore quindi unendo tre insieme vediamo il rositato allora taglio con le forbici la base di due cassette un anno la taglio la lascio come la base iscriviti al canale ora mi basta fermare le tre cassette insieme utilizzerò delle piccole fascette di plastica per unire le cassette iscriviti al canale ora due sono già unite farò lo stesso con l'altra cassetta ora le tre cassette sono unite taglierò le parte in più delle fascette taglierò le parte in più delle fascette grazie a tutti spero che vi è piaciuto questo video ricordatevi di mettere mi piace lasciate il vostro commento ciao ciao al prossimo video iscriviti al canale